pochi soldi e pochi racconti a 18 anni aspettavo il treno nella stazione di gand per tornare in italia era la prima volta che tornavo a casa ed ero triste perché non avrei potuto offrire granché al mio primo ritorno pochi soldi e pochi racconti ero partito due anni prima dal paese 16 anni a valle di sambro dovevano contare almeno 30 per chi aveva miseria non c'era tempo per fare il ragazzo bisognava crescere subito col mio treno quel giorno tornavano in italia i due figli del commendatore chilemi il big del paese che appartenevano alla irraggiungibile cerchia di quelli che vincono sempre che sono sempre belli che sorridono sempre tornavano dopo un periodo di studi in belgio loro sì che avevano imparato ad organizzare l'allegria ogni sera a gand si riunivano davanti al bar unicum a ridere scherzare e avevano un sacco di cose da raccontare altro che io che racconto poteva essere il mio che oltretutto mi chiamo egisto io ricordavo solo giorni lenti e faticosi nella fabbrica fumosa commento egisto era rassegnato alla sua condizione c'è una grande differenza tra accettazione e rassegnazione l'accettazione è una forma di umiltà ad altissimo livello è una forma di purificazione è una forma di adorazione è una forma di fede la rassegnazione invece è una forma di passività che ha scarso valore evolutivo l'abbiamo 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 l'abbiamo